A San Cataldo una due giorni dedicata al libro e al diritto d'autore e alla sua quinta edizione. La manifestazione coinvolge scuole, associazioni e enti di formazione, coinvolgente al punto tale che è stato palpabile l'entusiasmo dei giovani lettori in erba. Siamo giunti alla quinta edizione della festa del libro e dei diritti d'autore. Abbiamo coinvolto tutte le scolaresche di San Cataldo e anche altre scuole di formazione insieme ad associazioni, amici e volontari, per riprendere e rivivere un momento di normalità che sia colorato da disegni e da laboratori creativi in onore della pace di questo momento. Abbiamo intitolato proprio la manifestazione di quest'anno divisa in due giornate Libri in festa, fiabe per la pace. Tra le attività della giornata anche l'incontro con due scrittori della città. Sicuramente leggere è un mezzo per estragnarsi, per trovare anche un angolo di pace. Quindi abbiamo voluto dare questo messaggio tramite le pagine, tramite le storie e creare un qualcosa di bello del genere in questo periodo. I ragazzi sono sempre molto reattivi, assorbono tantissimo e sicuramente dare messaggi del genere li farà crescere, spero, meno belligeranti. Dai laboratori creativi alle esposizioni degli elaborati tutto si è poi concluso con il lancio dei palloncini dei desideri.